Il Pescara gioca, il Torino vince. Almeno per 45 minuti Torreira e compagni nettamente meglio dei Granata, abili però a sfruttare le incertezze della difesa Biancazzurra. Finisce 4-1 ma defaianza parte, indicazioni assai confortanti. Oddo? Sì, un buon primo tempo, la squadra ha fatto tutto quello che ho chiesto, ogni tanto eravamo ancora un po' lunghi e quando eravamo lunghi abbiamo sofferto un po' il giropalla. Quando siamo riusciti ad essere costi e andati a prendere in avanti abbiamo fatto delle ottime cose. Ho notato tante cose positive, sicuramente la mentalità che sto cercando di portare. Abbiamo sfiorato anche il 2-0 con la Padula. Io credo che ci debba essere molta positività intorno a questa squadra perché ha dimostrato di avere grandi mezzi tecnici e quando hai grandi mezzi tecnici è molto più facile perché gli aspetti tattici li puoi migliorare. Tre le novità rispetto al match con il Sud di Tirol. Rossi, Memushai e Caprari, partner in attacco di Gianluca la Padula. Altresì in campo Valoti, sebbene non al meglio. Torino schierato secondo il consueto e collaudato 3-5-2. Debuto ufficiale in maglia granata per Avelar, Baselli e Acqua. Davanti la coppia Quagliarella-Maxi Lopez. Da subito baricentro alto e pressing dei Biancazzurri che assumono il comando del gioco. Caprari sfiora il vantaggio su punizione e al quarto con questa conclusione mancina che si spegne di poco al lato. Un tocco e via. È un piacere veder giocare l'undici di Massimo Oddo che al sedicesimo sblocca il punteggio sugli sviluppi del corner battuto da Valoti. Testa di Fornasier, palo, carambola sulla schiena del portiere uruguaggio, Iciazzo e vantaggio Biancazzurro. Primo sigillo, sebbene in compartecipazione per l'ex difensore della Sampdoria. Il Torino prova a reagire. Splendido Torreira in questa diagonale difensiva. Ma è sempre Pescara a fare la partita al ventiduesimo. La Padula costringe Iciazzo alla deviazione in angolo. Versante opposto, ventisettesimo. Spalle alla porta. Fabio Quagliarella dentro per Baselli che tutto solo infila Fiorillo. Uno a uno. Ecco, nello specifico ti chiedo Massimo, si è mossa male la linea difensiva lì? Beh sì, non abbiamo accorciato Quagliarella che era girato di spalle e poi siamo rimasti piatti invece di dare copertura. Quindi è un errore molto grave. I Biancazzurri non demordono, contropiede. Qui la Padula ignora Caprari, arma il sinistro, murato da Moretti. Cinque minuti più tardi Granata spietati. In realtà Acqua ha contratto da Zuparic favorito da un rimpallo a tu per tu con Fiorillo. Il ganese ex Sapedare Parma non perdona. Situazione capovolta 2-1 al trentasettesimo. Poi Valoti deve abbandonare il proscenio. Non era al meglio per un fastidio al tendine d'Achille. Al suo posto Selasi verre avanzato sulla tre quarti. Ripresa. Toro vicino al Tris. Conclusione di Quagliarella frustrata dall'ottimo intervento di Fiorillo che tuttavia in occasione del 3-1 minuto 22 ci mette molto di suo facile il tap-in di Maxi Lopez. In generale anche in questo caso difesa sorpresa. Sulla calcio di punizione battuto da Vives. Azione tra l'altro macchiata dal fuorigioco attivo di Quagliarella. Il Pescara si spegne. Poker Granata al 28esimo. A griffarlo in contropiede. Il venezuelano Martinez ispirato da Baselli. Migliore del Torino. L'Oscar della sfortuna invece. A vittorio Esposito che entra al 25esimo. Il luogo di La Padula. Ed esce in Barella 5 minuti più tardi. Infortunio alla spalla. Dopo questo contrasto con lo stesso Martinez. Già in campo Mitrizza subentrato a Verre. Oddo impossibilitato ad operare altre sostituzioni. Biancazzurri dunque in 10 nell'ultimo quarto d'ora. E in pieno recupero di testa Quagliarella timbra il palo. Termina così per il Pescara l'avventura in Team Cup. Curiosità prima sconfitta in gare ufficiali subita da Massimo Oddo. Un mercato da 9 bisogna arrivare a 10. Significa tradotto in soldoni ingaggiare questi due elementi che vadano a completare, a innervare l'organico difensore centrale. Si parla del ritorno di Salomon. È una punta centrale. Sì, la società ci sta lavorando. Sa perfettamente quello che serve. Si è dimostrato anche un pochino questa sera. E quindi lavoreremo per cercare di migliorare questa squadra. Ecco, se poi dovesse arrivare un centrocampista come Giorgi, che ha caratteristiche che mancano a questo organico in quel reparto, sarebbe il massimo? Beh, se andiamo a vedere che io agli ultimi 15-20 minuti ho dovuto mettere Selassie esterno-destra. Quindi hai risposto in modo come sempre chiaro. Grazie, grazie Massimo. Grazie a voi.